Ben ritrovati con l'informazione di BioBlu. Oggi abbiamo il piacere di ospitare sul nostro canale Angelo Giorgianni, giudice presidente dell'Eretico, nonché segretario generale dell'Organizzazione Mondiale della Vita. Bentornato su BioBlu, dottor Giorgianni. Grazie di avermi invitato. Una nuova opportunità per cercare di precisare qualche informazione che può essere utile ai nostri ascoltatori. Grazie a lei per aver accettato l'intervista. Allora, lei in qualità di segretario generale dell'Organizzazione Mondiale per la Vita ha presentato una nuova denuncia alla Corte Penale Internazionale che ha sede all'AIA contro il governo italiano per violazioni del protocollo di Norimberga e violazioni delle libertà fondamentali. Prima però di addentrarci nel merito di questa denuncia, io vorrei che lei ci spiegasse, perché poi non tutti la conoscono, moltissimi nostri spettatori conoscono molto bene l'Eretico, ma non conoscono che cos'è l'Organizzazione Mondiale per la Vita, quali sono i suoi scopi. L'Organizzazione Mondiale per la Vita non è altro che una propaggine dell'Eretico, cioè l'Eretico si è reso promotore, che era già un'associazione a carattere internazionale, si è reso promotore della fondazione di un soggetto modulare rispetto all'Eretico, che tiene insieme tante associazioni e soprattutto tiene insieme tanti paesi che vogliono essere un interlocutore rispetto non solo alla gestione di questa falsa pandemia, ma vogliono essere interlocutori rispetto a un progetto complessivo che è il progetto del nuovo Orde Mondiale, però vorrei evitare di approfondire subito questo argomento, perché tacciato da complottista, tacciato da Novax, tacciato da altro, rischio di non essere credibile. Quindi preferisco precisare prima gli altri concetti e il contesto in cui ci muoviamo, in modo da dare, non dico una valenza scientifica a quello che noi facciamo, perché ha anche una valenza scientifica, ma per spiegare che noi ci muovevamo in un contesto di natura internazionale in cui fortunatamente ci sono tante solidarietà e in questo contesto molto spesso vengono delineate alcune strategie che noi stiamo portando avanti, strategie di cui le varie denunce non sono altro che passaggi o esplicazioni. Sotto questo profilo io credo, Francesco, permettimi di continuare a dare del tu, come ti do del tu, lontano dalle telecamere, con affetto, rispetto e stima. Io credo che sia il caso di cercare di contestualizzare. Tu hai fatto bene a chiedere che cos'è l'Organizzazione Mondiale per la Vita e io per spiegarlo ho detto che ha un impegno di natura internazionale che non solo sul fronte dell'emergenza sanitaria o democratica vedremo, ma è anche su un fronte complessivo di contrasto o un disegno che è un disegno complessivo. È sotto gli occhi di tutti, vado sinteticamente a introdurre il tema, è sotto gli occhi di tutti che in questi mesi, che dalla fine gennaio 2020 ad oggi, e la gestione di questa crisi è stata caratterizzata da una serie di ritardi, omissioni, errori, errori diagnostici, errori terapeutici. Ma soprattutto è stata contrassegata da questo lockdown contestato, che nel senso che questo lockdown è stato fondato su alcune verità, o presunte verità che sono state contrastate anche da una parte della scienza e che sono state contrastate da una parte del mondo della cultura. Evidentemente questo è un elemento fondamentale perché noi stiamo parlando, quando parliamo di misure di lockdown, parliamo di limitazioni di libertà fondamentali, limitazioni di libertà fondamentali dei cittadini del mondo, perché vedremo che il problema non è un problema solamente italiano, ma è un problema mondiale. Queste limitazioni, tutte le limitazioni quando si trattano di valori fondamentali, non sono mai ammissibili per motivazioni di natura politica, ma sono ammissibili solo se ci sono riflessi di natura pubblica, quindi interessi di natura pubblica, come potrebbe essere un'epidemia alla salute pubblica. Le misure che sono fondate su un'evidenza scientifica hanno una giustificazione sotto il propilo dell'impalcatura delle libertà costituzionali o delle libertà comunque garantite. In questa vicenda però c'è stata una grande contestazione sul fondamento di questo lockdown, sul fondamento giuridico e soprattutto sul fondamento scientifico. tutte le misure. Ecco Angelo, mi permetto allora di darti del tu, come ce lo diamo poi normalmente al di fuori delle interviste ufficiali, quindi se tu me lo consenti mi do anche io del tu. Un privilegio per me. Grazie. Un libero informatore che mi dà del tu è un privilegio. Allora io vorrei subito parlarti di questo lockdown, perché poi è la misura che più ha inciso sulle libertà, in particolare in modo economiche, perché le attività ne hanno sofferto particolarmente. E vorrei leggerti uno studio di cui noi abbiamo parlato molto spesso, che è lo studio dell'Università di Stanford, uno studio corposo redatto da un importante ricercatore che si chiama Ioannidis, che dice, ora arriva uno studio dell'Università di Stanford, lo vedete qui, chiunque può andare a cliccare anche e troverà lo studio, uno studio dell'Università di Stanford a decretare che il lockdown non funziona. Confrontando i dati di diversi paesi, lo studio non ha rilevato alcun effetto benefico significativo dai confinamenti in casa e dalla chiusura delle attività commerciali. Cliccando si può anche andare proprio sul sito ufficiale, che è il sito ufficiale dell'Università di Stanford, e dalla rivista scientifica che ha pubblicato questo sito. Eccolo qui, è arrivato. Si chiama European Journal of Clinical Investigation, è uno studio che chiunque può andare a leggere, è pubblico, e redatto da un ricercatore molto importante che si chiama John P.A. Ioannidis, ricercatore e un professore dell'Università di Stanford. Cioè questo studio rileva che non ci sono significative differenze tra i paesi che hanno adottato le forme di lockdown che ben conosciamo noi in Italia e paesi invece che non l'hanno adottato, che hanno adottato forme molto più blande. Cioè in sostanza la curva epidemiologica rimane più o meno la stessa. Lei in precedenza aveva presentato sempre alla Corte Penale Internazionale dell'AIA una denuncia contro il governo italiano, ma poi contro tutti i governi mondiali che hanno adottato misure di lockdown accusando questi governi di crimini contro l'umanità. Ha richiamato in questa denuncia anche questo studio e se ci può ripercorrere dunque quali erano le motivazioni alla base di questa precedente denuncia? Allora, grazie della domanda. In effetti già basterebbe questa affermazione e questo studio per fare venire meno i presupposti di questo lockdown. Quindi le misure, il lockdown sono delle misure inutili, ma queste misure oltre che essere inutili sono misure che sono illegittime e sono infondate anche scientificamente. E proprio per questo noi abbiamo proposto una delle denuncie all'Alta Corte di Giustizia, alla Corte dell'AIA. Noi abbiamo intanto spiegato in questa denuncia che l'architettura del lockdown fondata sul tampone è un'architettura fallace. Cioè il lockdown ha un pilastro che è il tampone, un altro pilastro che è la trasmissione sintomatica del virus. Su questo si reggono tutte le misure. Ma sapete benissimo, anche i nostri ascoltatori sanno benissimo, che il PCR è un sistema di rilevazione dei dati che è molto fallace, anche perché, come ha riconosciuto la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio la validità del tampone ai fini dell'individuazione dei segmenti di questo virus è limitata al caso in cui il tampone viene processato a un certo numero di cicli, che deve essere inferiore a 30. Mentre in effetti in gran parte del mondo, in Italia e in Europa, viene processato a un ciclo superiore a 30. Quindi abbiamo una prima inaffidabilità che deriva dal fatto che lo strumento di rilevazione del contagio è uno strumento fallace. Un secondo pilastro che noi abbiamo sottolineato. Chiedo scusa Angelo, questo perché avviene? Perché in questo modo si hanno dei falsi positivi? Perché? Per quale ragione dovrebbe avvenire ciò? Arriviamo a questo, arriviamo a questo. Il secondo pilastro è la trasmissione asintomatica del virus, che è contrastata, tant'è vero che la stessa Organizzazione, poi mi avvia a rispondere alla tua domanda, tant'è vero che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, sia a dicembre che a gennaio, ha ribadito la questione che è necessario processare in maniera corretta i tamponi e che in ogni caso bisogna accompagnare questo accertamento, perché non è utile a fini diagnostici, a verificare la sintomatologia. Quindi i positivi asintomatici non possono essere ritenuti malati e contagiosi. Mentre invece noi su questo abbiamo costruito il lockdown. Giustamente tu ti chiedi, ma come mai questo si è verificato? Questo si è verificato perché se non avessimo avuto questo numero di contagiati, che poi in questo numero di contagiati e il numero di morti c'è grande confusione, quanto sai è inutile ritornare, non avremmo potuto giustificare un'emergenza. Quell'emergenza che ha consentito l'autorizzazione, non l'approvazione, e questo è uno degli elementi che noi abbiamo sottolineato nella nostra denuncia, che ha consentito l'autorizzazione della somministrazione in emergenza dei vaccini. I pilastri per la somministrazione in emergenza anche qua dei vaccini sono esplicitamente previsti in un regolamento. In termini ampi si può giustificare una terapia genica come questa che è stata contrabbandata con un vaccino sul presupposto che ci sia una necessità. Emergenza evidenzia uno stato di necessità, emergenza evidenzia un numero di morti impressionanti, emergenza evidenzia anche un'altra cosa che è fondamentale del secondo pilastro, emergenza evidenzia che non ci siano terapie efficaci. E allora qua intanto ti viene un primo dubbio, perché il numero dei morti oggi, il dato pare che sia un dato assestato, si parla di 0,15 come percentuale che viene oramai dal mondo scientifico, ma anche i dati che vengono per esempio in Italia da Palù parla di 0,20, 0,15, 0,20. Quindi manca un elemento fondamentale nell'emergenza, il numero di morti. Il numero dei contagiati poco importa l'elemento dei positivi, come si chiama, che solo quelli che contano sono i positivi malati, i sintomatici, non gli asintomatici, mentre noi abbiamo rilevato tutti gli asintomatici. E poi c'è un ulteriore elemento di cui parleremo in riferimento alla denuncia specifica che abbiamo fatto sulla vaccinazione dei sanitari. Però, allora, qual è la strategia? Rispetto a queste misure che sono misure liberticida, i profili di intervento sotto il profilo giuridico sono due. Un profilo collettivo e un profilo individuale, quindi cercare la tutela collettiva verso queste misure liberticida e le tutele individuali. Poi le tutele internazionali e le tutele nazionali. L'Organizzazione Mondiale per la Vita ha partecipato anche a degli incontri di natura internazionale con Kennedy, con Rainer Fulmich, proprio per individuare una strategia. Nella strategia noi ci siamo resi conto che dovevamo tutelare il cittadino del mondo sotto diversi profili. Dovevamo tutelarlo sotto il profilo individuale, con riferimento alla legislazione statale, per farci intendere le azioni risarcitorie nei confronti dei singoli stati, le denuncie penali nei comportamenti dei singoli stati. Ma ci dovevamo anche preoccupare di tutelare i cittadini del mondo sotto il profilo di carattere internazionale. Profilo di carattere internazionale, quindi rivolgendosi alla giurisdizione internazionale, alla giurisdizione internazionale, sia con riferimento ai profili di natura civile e amministrativa, sia con riferimento ai profili di natura penale. E in questo senso tutti insieme abbiamo ipotizzato di avvedire intanto, per esempio, l'autorizzazione alla somministrazione sui vaccini e nello stesso tempo evidenziare sotto il profilo internazionale di altri crimini contro questi fatti che rappresentano anche i crimini contro l'umanità. I fatti che abbiamo rappresentato come contro crimini contro l'umanità sono di tipo diverso. La prima denuncia che noi abbiamo presentato all'AE e che tanti altri paesi nel mondo aderenti all'MV hanno presentato riguarda le libertà fondamentali che sono stati violati con i lockdown. Il nostro obiettivo era di dichiarare i lockdown crimini proprio per evitare la vaccinazione forzata. In questi crimini che noi evidenziavamo, al di là del fatto che queste misure hanno variato anche il modo di essere della nostra società e questo di per sé stesso è un crimine che è sanzionato dallo Statuto di Roma, non dobbiamo dimenticare che abbiamo registrato un numero impressionante di atti di autolesionismo per esempio dei bambini le misure nei confronti i bambini hanno portato anche a tentativi di suicidi quindi nei confronti i bambini abbiamo avuto una vera e propria tortura e questa tortura e crimine contro l'umanità noi l'abbiamo segnalato ma abbiamo segnalato anche altri crimini perché da noi sono state limitate delle libertà fondamentali. vorrei ricordare tra tutte che è stata decretata la chiusura di tutta l'Italia stiamo parlando del 2020 sulla base di un supposto verbale del Comitato Tecnico Scientifico. Noi abbiamo esaminato i comitati il Comitato Tecnico Scientifico si era espresso in maniera contraria alla chiusura generalizzata dell'Italia il Comitato Tecnico Scientifico si era espresso in maniera contraria alle limitazioni che riguardavano la scuola quindi evidentemente quelle limitazioni di libertà fondamentali non sono state fatte per un'evidenza scientifica e per ragioni medico-scientifiche ma per altro e quindi questo è un crimine contro l'umanità. Lei ha denunciato in precedenza il lockdown come crimine contro l'umanità lo ha fatto per evitare che si imponesse una vaccinazione obbligatoria mi hai appena detto che in sostanza sulla base di un test PCR cioè tamponi naso faringei che è un test fallace per i motivi che hai spiegato cioè il fatto che viene processato a dei cicli superiori a 30 dei cicli del test PCR si è giustificata dunque l'esistenza di una emergenza che in realtà emergenza non è per spingere in qualche modo una vaccinazione di massa questo è il ragionamento che hai fatto e però in Italia assistiamo ad una vaccinazione che per il momento non è obbligatoria ma viene imposta a tutti gli esercenti le professioni sanitarie tra l'altro siamo l'unico paese in Europa benché poi i test PCR siano utilizzati invece poi in tutto il mondo come test diagnostico invece in Italia assistiamo quindi ad una vaccinazione obbligatoria per tutti gli operatori e i lavoratori diciamo del settore della sanità anche questa misura è oggetto della vostra denuncia alla Corte Penale Internazionale dell'AIA? Sì infatti questa è l'ultima denuncia in ordine cronologico che noi abbiamo fatto perché hai colto bene noi abbiamo seguito un ITER noi con la prima denuncia abbiamo denunciato quei crimini abbiamo denunciato anche un altro crimine le stragi di Stato perché abbiamo denunciato una serie di morti che si potevano evitare se si fossero adottate come abbiamo chiesto noi dal febbraio del 2020 le terapie domiciliari efficaci e se avessero corretto i protocolli e quindi gli errori diagnostici e terapeutici hanno portato a intubare persone sul presupposto che si trattasse di una polmonita intestiziale e non di una trombembolia Scusami Angelo se ti interrompo però su questo punto è importante quello delle terapie domiciliari contro la Covid-19 perché noi sappiamo abbiamo intervistato moltissimi medici qui su BioBlu che hanno curato con protocolli di cura la Covid-19 intervenendo tempestivamente protocolli di cura poi differenziati a seconda dello stadio della malattia l'obiezione che però viene sempre avanzata è che non esistono degli studi randomizzati sulla efficacia diciamo di queste cure adottate in via clinica dai medici e quindi è sempre questa un po' l'obiezione contro le terapie domiciliari che viene avanzata tu come rispondi? Brevemente prima della pausa io rispondo che queste terapie vengono dalla cura dell'epidemia quindi non ci siamo inventato nulla bastava prendere gli studi che sono stati fatti per terapie della SARS della MERS quindi la questione di queste terapie era una questione risaputa e scontata la verità come dicevamo poco fa è che non si poteva consentire che si praticassero le terapie efficaci quindi non si poteva affermare riconoscere che c'erano le terapie efficaci perché se vi erano le terapie efficaci veniva meno uno dei presupposti previsto dal regolamento per l'autorizzazione in emergenza quindi noi abbiamo avuto un'autorizzazione in emergenza di un vaccino su un presupposto falso che non ci sono le terapie efficaci ed è per questo che hanno impugnato la sentenza al CAR impugnato perché altrimenti sarebbe passato in giudicato un fatto storico che vi sono le terapie efficaci qual è la gravità? che il Parlamento italiano il Senato all'unanimità pressoché all'unanimità ha votato un impegno al governo per introdurre le terapie efficaci e mentre faceva questo mentre il Senato al Camera Alta approvava questo invece si impugnava davanti al Consiglio di Stato questo è grave perché non si rispetta la volontà del popolo ma non si rispetta neppure la volontà dei rappresentanti del popolo e questo pone il fatto che siamo in una grave emergenza democratica allora adesso facciamo una brevissima pausa restate qui con noi ripartiamo proprio da questo punto fondamentale nel nostro racconto rimanete subito blu partiamo dal 1976 l'Italia stava crescendo troppo il nemico doveva essere la democrazia cristiana la quale tutto sommato stava riprendendo avrebbe ripreso in mano le redini del paese c'erano stati altri episodi che ridimensionavano il ruolo dell'Italia che frenavano l'Italia ogni volta che si presentava questo panfilo c'erano delle grosse novità e allora lì ho capito che c'era qualcos'altro che bolliva in pentola come è stata svenduta l'Italia il primo libro dell'economista Nino Galloni per Bio Blu con l'esclusivo video del suo racconto diretto ordinalo in libreria o acquistalo qui go.bioblu.com slash galloni ben ritrovati su Bio Blu siamo in compagnia di Angelo Giorgianni per parlare dell'ultima denuncia presentata alla Corte Penale Internazionale dell'AIA contro il governo italiano per violazione del protocollo di Norimberga e violazione delle libertà fondamentali Angelo hai appena parlato appunto di questa importante sentenza del Consiglio di Stato perché in precedenza il TAR aveva bocciato il protocollo di vigile attesa e tachipirina sulla base di un ricorso presentato proprio dal Comitato Terapie Domicilari Covid-19 in ogni regione e di tutti i medici che aderiscono a questo comitato il ricorso era stato presentato dall'Avvocato Eric Grimaldi e insomma che cosa è successo il TAR in prima istanza aveva bocciato questo protocollo ufficiale di tachipirina e vigile attesa se non che però il Ministero della Salute AIFA hanno poi fatto appello e il Consiglio di Stato ha accolto questo appello del Ministero della Salute e noi siamo ritornati quindi a questo protocollo che per molti medici è dannoso quello cioè della vigile attesa e tachipirina ora questo però fa pensare a me che non sia allora soltanto una diciamo una come dire una male interpretazione di un Ministro della Salute Roberto Speranza ma che ci sia un disegno perché poi se anche dei giudici del Consiglio di Stato aderiscono in qualche modo a questo progetto mi fa pensare magari ecco che ci sia un disegno non so tu come la pensi che ci sia qualcosa in più rispetto ad una semplice disattenzione di un Ministro allora ribadisco allora la sentenza del Consiglio di Stato di per se stesso non è una sentenza avversiva perché il Consiglio di Stato e si è fatto infatti tanto fragore per nulla perché la sentenza del Consiglio di Stato che cosa dice che siamo in una fase cotelare in ogni caso a prescindere dal protocollo il protocollo non è vincolante perché comunque i medici secondo il giuramento di Ippocrate in virtù di scienza e coscienza possono applicare le altre terapie però come dicevamo prima il problema dell'appello alla sentenza del Tar è stato fatto per evitare che passasse in giudicato un fatto storico che esistono le terapie domiciliari se fosse passato in giudicato questo fatto storico evidentemente veniva meno la legittimazione dei vaccini di questi vaccini sperimentali perché evidentemente uno dei presupposti dell'autorizzazione in via di emergenza era proprio l'assenza di terapia efficace quindi tutto questo è il problema è chiaro che c'è una condizione fondamentale per applicare per somministrare delle terapie farmacologiche ai vaccini in via condizionata cioè in una fase emergenziale e che chiaramente lo ha detto molto chiaramente sia l'EMA cioè l'Agenzia Europea dei Medicinali sia la FDA la Food and Drug Administration che è l'equivalente dell'EMA e della nostra AIFA Angelo allora io vorrei chiederti ora in effetti tu hai presentato queste denunce alla Corte Penale Internazionale però non c'è il rischio che queste denunce rimangano in cassetti e non prese in considerazione dai giudici internazionali tutto è possibile io parto dalla considerazione io credo nelle istituzioni quindi sono convinto che comunque c'è un buon giudice a Berlino e devo dire che la Corte dell'AIA su alcune cose si è già pronunziata si è pronunziata per esempio sul coprifuoco perché in Olanda ha invitato il governo ha revocato il coprifuoco ritenendo che questa misura fosse una misura illegittima e che potesse integrare gli estremi addirittura di un crimine nonostante questo il governo italiano ha adottato e continua a mantenere la stessa misura ed è per questo che noi abbiamo rinvestito la Corte dell'AIA rispetto a questo profilo è ragionevole pensare anche il riferimento alla situazione italiana al coprifuoco italiano quando la Corte dell'AIA mantenga lo stesso orientamento e possa chiedere al governo italiano la revoca di questa di questa misura ma noi in quest'ultima denuncia non ci siamo occupati solamente del coprifuoco intanto abbiamo segnalato come comunque continuano a essere mantenute in vita fino al 21 al 31 luglio la quarantena di persone sintomatiche la chiusura parziale delle attività i limiti alla libertà di movimento con i pass ed altro e quindi abbiamo ribadito che questa previsione del passaporto vaccinale e dei pass vaccinali tra l'altro oltre che essere inutile è fondata su presupposti scientifici sbagliati perché se con il passaporto vaccinale una persona vaccinata si può muovere liberamente quando noi siamo e non si può muovere l'asintomatico quando noi sappiamo per esperienza diretta degli ultimi giorni che il vaccinato si può contrarre la malattia e può contagiare mentre l'asintomatico non può contagiare c'è un'evidente disparità di trattamento sotto questo profilo ma in ogni caso viola delle libertà non solamente libertà fondamentali costituzionali ma viola anche libertà che sono garantite da trattati internazionali abbiamo anche posto all'attenzione la questione della vaccinazione dei sanitari che è un problema che sta angosciando tantissime persone perché qua mi azzarderei di dire che c'è stata una vera e propria c'è nata una vera e propria estorsione da parte dello Stato o violenza privata perché i medici e il personale sanitario sono messi nell'angosciosa situazione di dover decidere tra il mantenimento del posto di lavoro e il diritto alla salute che viene garantito dall'articolo 32 della Costituzione dall'articolo 143 del trattato europeo da carte internazionali per rispetto a questo problema c'è un crimine che è evidente perché nessuno può negare che questa terapia è una terapia sperimentale tant'è vero che le fasi la fase clinica non è stata esaurita si esaurirà nel 2022 2023 2024 dove potremo stabilire quali sono veramente le reazioni avverse quindi una terapia sperimentale ha bisogno di un consenso specifico perché altrimenti è un crimine contro l'umanità che era stato già sancito dal codice di Nuremberg ma a parte ogni cosa ammesso che fosse che quel consenso che viene sul rettiziamente richiesto alle persone che si vaccinano fosse un consenso alla sperimentazione non è così perché non ha quelle caratteristiche c'è anche un altro fatto che è fondamentale nel momento stesso in cui secondo i principi internazionali di diritto internazionale il codice perale internazionale le sperimentazioni che siano delle sperimentazioni dannose vanno interrotte immediatamente perché se non vengono interrotte costituiscono crimine e anche questo è un aspetto che noi abbiamo evidenziato alla Corte dell'AIA ma c'è anche un discorso di fondo che è quello che facciamo in termini di carattere generale sui presupposti dell'autorizzazione condizionale del vaccino il bilanciamento costo benefici perché una tecnica sperimentale ammesso che ci siano che ci sia un'emergenza ammesso che non ci siano le perate più efficaci e sappiamo che non è così presuppone che la la sperimentazione che noi facciamo nel bilanciamento costi benefici i benefici siano superiore ai costi mentre in questo momento sulla base che abbiamo di questi dati forse il 30% è il termine di efficacia di questi vaccini ma la percentuale vera la conosceremo alla fine della sperimentazione e allora come è stata data ribadisco e di questo e di questo ci siamo lamentati sia in sede civile amministrativa con ricorso allo Zaisen sia in sede penale nelle nostre denunce come è stata data un'autorizzazione condizionale in assenza di un quadro chiaro degli eventi avversi e soprattutto del bilanciamento costo benefici anche sotto questo profilo è di tutta evidenza che la vaccinazione che si sta facendo è illegittima e noi abbiamo chiesto che l'alta corte giustizia imponga agli stati la sospensione immediata di questa vaccinazione perché è chiaro che il ricorso riguarda in questo momento l'Italia ma la fattispecie è una fattispecie che abbiamo già visto in Israele della vaccinazione sanitaria e che potremmo vedere anche in altri paesi tant'è vero che anche dagli altri paesi seguono con grande attenzione questa iniziativa che è antesignana in Europa del governo italiano questo sarebbe il rischio che dai sanitari poi si possa diffondere anche ad altre categorie perché poi perché non vaccinare anche gli operatori della scuola il presupposto poi è lo stesso sono comunque i lavoratori che interagiscono in un contesto chiuso al pari appunto dei sanitari sicuramente potrebbe essere usato come questo obbligo come grimaldello per poi estenderlo anche ad altre categorie per poi arrivare a tutti in sostanza io vorrei però farti una domanda raccontandoti un episodio che mi è capitato qualche giorno fa un uomo che conosco quasi 40 anni un giovane che lavora dal lunedì al sabato per 12 ore probabilmente con uno stipendio anche non giustamente retribuito uno stipendio sottopagato mi ha detto però se a me io capisco tutte queste osservazioni però se arrivano a dirmi che io per lavorare devo sottopormi ad un vaccino io sono costretto a dargli il mio braccio perché tra il morire di fame io ho bisogno di lavorare tra il morire di fame e invece rischiare degli eventi avversi legati ad un vaccino io comunque devo lavorare preferisco rischiare gli eventi avversi del vaccino tu che cosa risponderesti a questo giovane uomo risponderei a questo giovane uomo che la salute e la vita è figlia unica di madre vedova quindi la priorità è garantire tutelare la salute risponderei a questa persona che comunque ci sono gli rimedi giuridici per impugnare questi provvedimenti perché contrastano con una giurisprudenza consolidata e una normativa consolidata a tutela dei diritti dei lavoratori dallo statuto dei lavoratori in poi e vorrei anche dire che questo dell'obbligatorietà è un segno di debolezza del sistema cioè infaticamente quando hanno iniziato a delineare questa strategia e guardavano al vaccino perché poi alla fine è questo hanno creato una strategia terroristica hanno chiuso le persone dentro anche hanno sequestrato in casa quindi con il sequerse di stato gli asintomatici e non c'era necessità abbiamo chiuso interi settori abbiamo bloccato la nostra economia e questo serviva solo abbiamo negato che esistessero le terapie efficaci abbiamo moltiplicato il numero dei morti con errori e confondenti dati ma questo doveva servire solo per dire l'unica strada è il vaccino allora entusiasticamente affermavano all'inizio di questa pandemia che l'obiettivo loro che è concreto che si precisavano è del superamento della soglia del 70% per i vaccini a cui loro ricollegavano il famoso effetto greggio ma evidentemente siamo lontani siamo molto lontani dai quei numeri anche grazie a liberi informatori come te oggi ci sono tante persone che si sottraggono cercano di sottrarsi all'obbligo vaccinale e parlare di obbligo vaccinale è una manifestazione di debolezza lo stanno facendo perché evidentemente quelle soglie se li possono sognare oggi tante persone si sono risvegliate tante persone a cui avevano narcotizzato il cervello o avevano plagiato con delle informazioni che venivano dai mezzi informazioni al mainstream oggi ragionano e guardano con attenzione alle conseguenze quello che ti stupisce è come ancora oggi con Protelvias per esempio in Italia si portano avanti queste terapie sperimentali per esempio a Strasenega quando in altre parti del mondo è stato sospeso ci sono due paesi da Neymar che Olanda dove a Strasenega è stata definitivamente sospesa ci sono persone come militari a cui era stato destinato a Strasenega che si sono sottratti oggi bisognerebbe io non sono Novak se lo voglio dire voglio precisare non sono per i vaccini che siano utili e che non siano dannosi io ho sempre invocato e continuo a invocare maggiore prudenza avremmo potuto da dove ci sono le terapie efficaci attendere la sperimentazione secondo i protocolli e evitare tante vite Angelo voglio chiederti una cosa molti medici ci stanno dicendo in maniera molto chiara che questo è un virus endemico con cui dobbiamo imparare a convivere perché poi è anche un virus stagionale quindi è verosimile pensare che ad autunno inverno prossimo si ripresenti e quindi c'è il rischio alla luce di questa considerazione che possano incolpare in qualche modo i non vaccinati di un eventuale aumento dei contagi in questo contesto questo è possibile però poi ancora una volta c'è una prova principe vediamo quante sono le persone che sono morti tra i vaccinati e quanto sono quelle che sono morti tra i non vaccinati perché se dovesse venire fuori come sta venendo fuori che la percentuale maggiore dei morti è tra i vaccinati evidentemente nel nesso di causa e effetto non potrebbe essere adottato i non vaccinati il problema degli eventuali morti certo il tentativo sarà quello di qualificare coloro che non si sono vaccinati come degli untori questo è un rischio che è sotto gli occhi tutti però stanno venendo fuori delle verità stanno venendo fuori delle verità scientifiche anche sulla questione sulla validità di questi vaccini e sul fatto che sono poi questi vaccini che stanno determinando le varianti noi l'avevamo detto a febbraio con Tarro l'avevamo detto già a febbraio l'anno scorso in un'intervista che avevo fatto io personalmente al professor Tarro il professor Tarro aveva detto rincorrere in questo momento il virus è inutile quindi non riusciremo ad avere un unico vaccino perché intanto in epidemia non si fanno le vaccinazioni e poi le vaccinazioni determinano le nuove varianti noi l'avevamo detto prima loro quest'anno hanno manifestato un grande stupore delle varianti quando poi uno studio scientifico dice la variante inglese la variante sudafricana e brasiliana è venuta fuori dove c'è stata la sperimentazione AstraZeneca dimostrando scientificamente che le sperimentazioni e quindi i vaccini determinano le varianti perché questo è chiaramente legato al fatto che è un virus RNA che muta e che chiaramente cerca di adattarsi alla situazione al contesto che trova e voglio chiederti ancora una cosa in conclusione della nostra intervista ci hai proprio detto diciamo ci hai dato una notizia che il sito dell'organizzazione mondiale della vita riporta e vorrei commentarla con te annullato il World Economic Forum 2021 di Davos gli organizzatori del World Economic Forum affermano di aver deciso di annullare il loro raduno annuale che si tiene solitamente a Davos in Svizzera ogni anno ieri gli organizzatori del forum di Davos hanno dichiarato che non si terrà l'incontro citando in gran parte l'impatto del coronavirus dopo molteplici tentativi per trovare una data e un luogo adeguati gli stessi organizzatori avevano sperato di tenere il forum a Singapore ad agosto ma il fondatore del World Economic Forum Klaus Schwab l'ha definita una decisione difficile ma alla fine la salute e la sicurezza di tutti gli interessati sono la nostra massima priorità sarà reale il motivo? Come interpreti questa notizia? E poi in effetti voglio fare con te una considerazione che molto spesso per prendere queste decisioni di lockdown delle chiusure a cui abbiamo assistito si dà come giustificazione diciamo sempre la salute la salute che deve essere al primo posto e la vita che anche tu prima hai citato come si concilia? Perché poi anche loro richiamano la salute come principale motivo E allora tutto è stato scritto ma non è stato scritto nel 2020 questo è stato scritto perché vorrei ricordare io l'ho detto nel mio intervento alla Senato che Jack Sattali già nel 2008 aveva previsto una pandemia che potesse essere funzionale all'introduzione del nuovo ordine mondiale tutto è stato scritto perché abbiamo avuto nel 2019 anche una esercitazione sul covid-19 era stata scritta anche la scadenza di questo forum e la data di questo forum dove evidentemente bisognava tracciare il bilancio di quello che era successo e una programmazione per il futuro se questo appuntamento salta questo è evidentemente dovuto al fatto che il nuovo ordine mondiale inizia ad accusarla qualche difficoltà e vorrei anche dire non per farci pubblicità vorrei anche dire Francesco se lo mi consente una cosa questa piattaforma che noi abbiamo fatto guarda dove dove tu trovi la notizia l'abbiamo fatta non perché andiamo a fare una piattaforma giornalistica non è questo il nostro obiettivo come siamo collegati con tante altre realtà nel mondo e questa è la dimostrazione le notizie molto spesso notizie che non trovano invece spazio sui mezzi di informazione del mainstream noi le pubblichiamo quindi abbiamo solo l'ispirazione di dare voce a chi non ha voce di rendere pubbliche verità che altrimenti restano nascoste e quindi vi invito ad andarla a consultare noi non abbiamo finalità commerciali cerchiamo di fare un servizio raccogliamo le informazioni del mondo li mettiamo in anteprima sulla nostra assumendoci la responsabilità perché oggi tu sei meglio di me perché voi avete pagato anche sulla vostra pelle e quello che è diventato eversivo è dare le informazioni e se di questo si tratta io sono un terrorista e noi non ci sottrarremo mai a questo e lo faremo poi sempre in sinergia con tutte le realtà dell'informazione libera e indipendente e con le associazioni come l'Organizzazione Mondiale per la Vita Angelo ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi ti ringrazio a te e grazie a voi che avete visto ascoltato questa nostra intervista vi ricordo che sarà breve disponibile sarà poi disponibile su tutti i nostri canali di informazione sul sito bioblu.com e sull'app Davvero TV vi do appuntamento ad un prossimo aggiornamento con l'informazione di Bioblu grazie